Eccoci qua per la serie Diamo un volto a una voce, siamo con Giorgiana Emili e Elisabetta Comazzetto, Giorgiana la conoscete tutti, è stata più volte ospite ad Ammi, un breve commento sulle gare di questi giorni e sul successo di numeri di questo campionato. Diciamo ottimo per la categoria, ci ripetiamo perché già l'anno scorso noi siamo stati in nostro favore e abbiamo già sistemato la giornata di ieri un pochino troppo lunga per il prossimo categoria essivo e speriamo di rendere sempre meglio. Senti, un campionato di record in tutti i sensi? Sì, beh, un record del mondo, un record del mondo youth, sbagliati i record italiani, insomma, buone percussioni, altri erenzi autori. Bene, non rubiamo altro tempo alle nostre due grandi lavoratrici perché la giornata è lunga e ci aspettano ancora tante gare. A presto e buon lavoro! Ciao!